Milano attrattiva perci prezzi restano contenuti e gli affitti offrono prospettive di rendimento interessanti. Londra sta vivendo una crisi dopo la galoppata dei prezzi, che invece sta caratterizzando le nuove abitazioni di lusso a Madrid e Barcellona. Il quartiere di Citilife a Milano uno dei più recenti interventi immobiliari di Lussoi la sintesi di un'analisi comparativa di abitare co. sulle principali capitali europee, presentate in settimana, dalla quale emerge anche il profilo di Parigi, dove i prezzi crescono ma non troppo nelle zone top. Sotto i 10.000 euro al metro quadro comunque quasi impossibile trovare una casa nuova. Le riqualificazioni urbane invece a Vienna accendono i prezzi delle case nuove. più 14% negli ultimi 24 mesi. Ecco il quadro disegnato da abitare e co. Milano. La cosa interessante che oggi. Per un investitore interessato al segmento delle nuove costruzioni residenziali. Milano la CIT che presenta le valutazioni immobiliari pi convenienti. I prezzi reali, esclusa l'inflazione, delle abitazioni in generale oggi rimangono di circa 20% sotto del livello del 2007. Dice la ricerca. Ecco per RAC il capoluogo Lombardo offre le migliori prospettive di crescita. Sia dal punto di vista dell'offerta che da quello dei valori di vendita. Un altro aspetto che sta facendo capire l'evoluzione del mercato residenziale milanese che la domanda degli investitori, soprattutto privati. Oggi, negli ultimi tre anni cresciuta a ritmi del 7% annuo. Investitori che si rivolgono al 90% verso le residenze di nuova costruzione. Madrid e Barcellona. Le due principali CIT spagnole vedono i prezzi in crescita in linea con quanto sta accadendo nel nord Europa. Le due CIT nel biennio 2015-2016 hanno visto aumentare significativamente sia le compravendite che i prezzi. In particolare nelle zone di maggior pregio. Nell'ultimo anno i prezzi delle nuove abitazioni nelle aree top di Madrid e Barcellona sono cresciuti del 12% medio rispetto al 2015. Come non si vedeva da un decennio. Sono le nuove costruzioni a dare la spinta ai prezzi. Che si siano oggi dimenticati gli effetti della bolla che ha travolto l'economia iberica. Londra. Situazione opposta nella CIT, che, per la prima volta da oltre 10 anni, sta sperimentando una fase di decrescita dei valori delle nuove costruzioni residenziali. Nell'ordine del 5-3%. Sia nelle zone top del centro. Come Westminster. Sia nelle aree più esterne. Come Islington. La spinta del mercato. Nonostante il risultato di Brexit e i segnali di frenata dei prezzi. Non sembra per arrestarsi. Nel settore delle nuove residenze e si stima che nei prossimi 5 anni saranno in media almeno 8.500 le case che verranno costruite annualmente ad un costo minimo di 9.000 euro all'MQ. Parigi. Altro caso in cui il mercato delle nuove residenze sta tirando un po' il fiato. Nelle zone più pregiate le iniziative sono piuttosto rare e i prezzi di vendita degli appartamenti toccano punte anche superiori ai 20.000 euro all'MQ. Nell'ultimo anno i prezzi in media non sono aumentati pi del 3%. Il che g una novit. Dato che in passato la media era stata anche dell'11%. Berlino. La domanda dei nuovi residenti si concentra soprattutto sui distretti centrali o semicentrali. MIT. Friedrichs-Einckreuzberg-GV e Charlottenburg-Wilmersdorf. I berlinesi residenti da PIA anni in CIT stanno invece lentamente abbandonando le zone centrali per trasferirsi nei P-verdi e tranquilli i quartieri periferici. Nel 2016 i prezzi delle case a Berlino sono ancora cresciuti anche se non più con percentuali a 2. cifre. Più 6. 5% rispetto al 2015. Vienna. Le trasformazioni urbane. Nuove linee del metro. Nuove costruzioni vicino alle universite. Una grande attenzione al mix verde pubblico e residenze. Stanno facendo della CIT una delle capitali più interessanti dal punto di vista immobiliare. La media percentuale dell'incremento dei prezzi a Vienna negli ultimi 5 anni stata di oltre 7 punti percentuali all'anno, fra le più alte in Europa. Altro su MSN. L'abusivismo del bel paese. RaiPlay. Sponsorizzato. Maggiore maggiore offerta Office 365. Un solo acquisto valido per 5 PC e 5 tablet. Download immediato maggiore maggiore.